Questa volta sorrido, siamo in semifinale, sono contento, abbiamo risultato un po' spoiatoio e da domani pensiamo alla semifinale. Allora io non ti chiedo di questa partita ma ti chiedo di quella di domenica perché credo ti tocchi particolarmente. Sì, sarà un'emozione tornare lì a Foggia perché ho passato un anno bellissimo con dei tifosi e dei compagni veramente speciali. Lì ho lasciato un pezzo di cuore, torno lì sperando che sia una bellissima partita. Se dovessi segnare risulterai? No, non risulta. Però se segni in quartuo sei contento? Sì. Se dovessi segnare sei contento? Sì, chi è che non segna e non è contento? Penso nessuno. La partita di questa sera? La partita è stata all'inizio quando siamo andati in vantaggio, sembrava che ce l'avevamo sotto controllo. Poi l'albitro gli ha dato rigore allo scadere del primo tempo, abbiamo subito un po' il colpo ma siamo entrati al secondo tempo come se non fosse successo nulla. In quarto d'ora abbiamo fatto due gol, abbiamo chiuso la pratica e nulla, siamo contenti, ci abbiamo messo cuore e abbiamo giocato da vera squadra. Soprattutto perché il Pescara sta molto bene fisicamente. Sì, siamo bene fisicamente, un po' come tutte le squadre che ha avuto il mister anche in passato, fisicamente siamo bene. Non è facile giocare ogni quattro giorni, abbiamo dei diffidati anche questo turno che verrà alla semifinale, ma sono sicuro che chi giocherà si farà trovare pronto. Anche perché il Foggia ha giocato una partita in più di voi? Sì, loro hanno giocato una partita in più, loro sono molto carichi, hanno entusiasmo, hanno passato il turno con il Crotone che è una squadra forte. Però vediamo la semifinale, spero sarà una bella partita e vincerà il migliore. Gli ha detto bravi Zeman? No, dopo la partita lui parla. Grazie. Grazie.